Governatore Gianni Chiodi, dopo aver sentito tanto parlare dei fondi FAS, oggi finalmente è la firma della Convenzione con il Comune di Teramo. Sì, se ne è parlato tantissimo perché era una questione che lo Stato non riusciva a mettere in atto, non riusciva a dare la disponibilità. Noi siamo la prima regione italiana ad averli per intero e quindi iniziamo l'operazione dei fondi FAS proprio da Teramo. Quindi mi sembra un fatto significativo per quanto mi riguarda ma anche perché il coronamento di quello che era una strategia che c'era già con la precedente consigliatura quando sia io che Maurizio Brucchi che sono tutti consiglieri lavoravamo per cercare di trovare le risorse per il corso di Teramo che è in una situazione veramente poco decorosa. 3.750.000 euro per finanziare un progetto che è stato oggetto di un concorso di idee portato avanti dall'amministrazione Chiodi che ha visto vincitore l'architetto Vallese con il suo staff. Stamattina la città verrà presentato anche il progetto per cui potrà essere anche visto e anche giudicato da un punto di vista tecnico. Insomma un momento importante. Io ringrazio la regione Abruzzo, ringrazio il governatore Gianni Chiodi per come in qualche modo sta amministrando la regione e per quello che è riuscito a far arrivare nel nostro territorio. Sono arrivati davvero tanti soldi. Stamattina una giornata positiva, un momento importante che vede appunto un altro passaggio di un programma elettorale che piano piano siamo completando.